Buongiorno a tutti, volevamo dirvi che oggi io e la Bonioz facciamo la nostra classica prova aperta alle 8, ecco io voglio che sia un cliché, è la semplicità, la purezza e l'eleganza, Ikea, questa è la casa di mamma Bognotti, cosa abbiamo mangiato oggi Veronica Bognotti? Abbiamo mangiato la carne salata, cotta e cruda, io no non mangio carne, va bene allora questi sono i pantaloni di scena, facciamo vedere la maglietta della Siso, bravo, questo è Emilio, Emilio è il nostro cameraman, Emilio se tu ci sei noi ci siamo, devo fare la pipì Giuseppe, e falla, abbiamo appena finito il video è andato molto bene, Emilio il cameraman mi ha detto che devo fare storie che durano non più di un minuto, per me è già difficile concentrare tutto in due, ci proverò, magari non da questa, dalla prossima e niente, basta, cosa dobbiamo dire? Basta, buona sera Ciao Ciao